Siamo Dainali Studio, siamo partner sia sul lavoro che sulla vita. Lo studio nasce in Toscana nel 2007, ci occupiamo di prodotto e di interni. La nostra cifra stilistica si può definire borghese. Amiamo quello che sono la cura dei dettagli, sia per quanto riguarda la progettazione ma anche la cura del cliente. Infatti ci piace lavorare in simbiosi per capire quali possono essere i suoi interessi, i suoi sogni e quello che si aspetta dai nostri progetti. Monoscopio perché? Perché comunque le forme del decoro richiamano un po' il monoscopio, che era l'immagine televisiva che la RAI negli anni 70 proponeva per sistemare le frequenze televisive. La collezione monoscopio vuole essere veramente versatile per far divertire gli interior designer. Infatti possiamo utilizzare quello che è un neutro, la graniglia, sia a pavimento che a parete, dandogli però un lucido particolare. E il pattern che viene proposto in maniera casuale, per cui non c'è un ordine ben definito, diventa ancora più personalizzabile, soprattutto perché le colorazioni che sono state pensate sono forti e il lucido opaco su ogni piastrella le rende anche un po' particolari. A queste abbiamo anche aggiunto un pattern 3D, una cannetta di quattro colorazioni che possiamo utilizzare per creare delle boaserie, quindi dare un tocco borghese a quelli che sono tutti gli ambienti. La collezione monoscopio può essere utilizzata veramente in maniera trasversale. Il decoro colorato, la cannetta e la graniglia molto più neutra permettono di avere situazioni dove si vuole spingere un po' di più sull'acceleratore a livello cromatico oppure anche avere degli ambienti molto neutri, molto soft, ma allo stesso tempo eleganti. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!